E questa puntata la cominciamo da qui, dalla stanza nella quale a Palazzo Chigi sono raccolte le fotografie di tutti i presidenti del Consiglio dall'Unità d'Italia ad oggi. Questi sono gli ultimi presidenti del Consiglio, lì c'è diciamo qui uno spazio vuoto nel quale quando sarà finito il mandato di questo governo comparirà anche la mia foto, ci vuole tempo, ancora almeno 4 anni. Dunque dalla nascita della Repubblica noi abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio, 68 governi in 75 anni. Significa a spanne un presidente del Consiglio ogni due anni e mezzo, un governo ogni anno e qualche mese. Dall'inizio della Repubblica i governi non sono mai stati stabili, in tutta la storia repubblicana nessun governo è rimasto in carica 5 anni e un solo presidente del Consiglio è rimasto in sella per un'intera legislatura. Silvio Berlusconi una volta sola ma con due governi diversi e noi abbiamo pagato quell'instabilità, l'abbiamo pagata pesantemente e per molte ragioni. L'abbiamo pagata perché un governo che ha un orizzonte breve tenderà inevitabilmente a privilegiare quello che torna immediatamente in termini di consenso rispetto alle scelte strategiche e infatti l'Italia non ha avuto una strategia su niente. Preferirà spendere soldi da distribuire subito anche indebitandosi e infatti ereditiamo un debito pubblico mostruoso piuttosto che concentrarsi sugli investimenti che sul medio termine producono molto di più in termini di crescita economica. Lo abbiamo pagato perché quando i governi cambiano continuamente nessuno a livello internazionale si fida e si perdono moltissime occasioni. Lo abbiamo pagato perché una politica di passaggio è debole. È debole in rapporto ai poteri economici, è debole in rapporto alla burocrazia, è debole in rapporto agli interessi particolari e non riesce perciò a combattere le ingiustizie, i privilegi e perfino il malaffare. È questa la ragione principale per la quale da decenni l'Italia cresce meno della media europea nonostante non le manchi nulla. E poi c'è un altro tema. Torniamo indietro. Quanti di questi presidenti del Consiglio e quanti dei governi che questi presidenti del Consiglio hanno presieduto sono stati effettivamente scelti dai cittadini? Quanti di loro avrebbero fatto il presidente del Consiglio se fossero stati i cittadini a scegliere direttamente chi doveva guidare il governo? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo per certo è che molti governi sono passati sulla testa degli italiani, sono stati frutto di giochi di palazzo e quando rispondi al palazzo e non ai cittadini è il consenso del palazzo che ti interessa più di quello dei cittadini. Abbiamo visto i risultati. Ora in questi 75 anni sono cambiati i protagonisti, sono cambiati i partiti, sono cambiate le leggi elettorali, però il sistema è sempre rimasto instabile. L'unica cosa che non è cambiata mai è la base del sistema, cioè la Costituzione. E qui è dove ora noi abbiamo avuto il coraggio di intervenire. Perché a me non interessa durare 5 anni se dopo di noi tutto tornerà uguale. Se non approfittassimo della stabilità di questo governo per lasciare all'Italia una riforma che comunque vada consentirà agli italiani di scegliere direttamente chi li deve governare e a chi è stato scelto dagli italiani di avere 5 anni per realizzare il suo programma. Così nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato quella che io considero la madre di tutte le riforme, che è la riforma della Costituzione, che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e mette così fine alla stagione dei ribaltoni, dei giochi di palazzo, del trasformismo, dei governi tecnici, garantendo governi stabili e portando così l'Italia nella Terza Repubblica. La riforma è semplice. Tocca appena 4 articoli su 139 della Costituzione, escludendo ovviamente le disposizioni transitori. Cosa prevede? Primo, prevede che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, salvo ovviamente il fatto che l'incarico di formare il governo viene automaticamente assegnato al candidato che si è affermato nelle urne. Secondo, prevede che il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dal popolo, viene eletto contestualmente alle Camere e che la legge elettorale deve garantire che il Presidente eletto abbia anche una maggioranza in Parlamento. Terzo, prevediamo una norma antiribaltone e antigoverno tecnico, che dice che nei casi estremi in cui il Presidente eletto dovesse dimettersi o essere sfiduciato dalla sua maggioranza, o insomma altre tragedie, l'unica possibilità di non sciogliere le Camere e tornare subito al voto è che un altro parlamentare, quindi non sono possibili governi tecnici, eletto nella maggioranza, quindi non sono possibili i ribaltoni, ottenga la fiducia ma solo per portare avanti lo stesso programma e gli stessi impegni sui quali il Presidente eletto aveva già ottenuto la fiducia. Quindi è impossibile fare le maggioranze arcobaleno, ma c'è solo la possibilità di portare avanti lo stesso lavoro iniziato da chi è stato scelto dai cittadini. Quarta e ultima novità, vengono aboliti i senatori a vita di futura nomina del Presidente della Repubblica, mentre ovviamente rimangono senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica. E questa norma è una norma che si è resa ancora più necessaria dopo il taglio del numero dei parlamentari e mi stupisce che chi ha proposto il taglio del numero dei parlamentari al tempo non ci abbia pensato. E' una riforma che noi abbiamo scritto dopo aver ascoltato tutte le forze politiche, le associazioni di categoria, dopo aver raccolto la sensibilità della stragrande maggioranza degli italiani, ora è a disposizione del Parlamento dove ovviamente il nostro obiettivo è lavorare perché abbia il più ampio consenso possibile, perché si possa raggiungere in Parlamento la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere che serve ad approvare la riforma. Ma se questo non dovesse accadere, se non dovessimo raggiungere la maggioranza dei due terzi, allora saranno gli italiani a decidere con un referendum se confermare oppure no questa rivoluzione.